Notte in Festa e ricordo che sono state edizioni di successo le precedenti svolte negli anni passati e la riproponiamo in maniera convinta proprio perché nell'arco degli anni il risultato è stato ottimo e ci ha dato la possibilità di portare al mercato San Severino centinaia di media di persone che per fortuna hanno anche fatto lo shopping giusto e dovuto e quindi hanno dato una mano, un contributo importante ai nostri operatori economici. Vogliamo entrare nei dettagli di questa manifestazione del 12 aprile? Sicuramente, oltre alle attrazioni tradizionali che ormai svolgiamo da tempo abbiamo 3-4 spettacoli molto particolari che sono delle vere e proprie novità tra le tante ci sarà uno spettacolo circense in strada dove praticamente legati a dei balconi sostanzialmente ci saranno dei lanci con dei tessuti da parte di alcune ragazze che faranno uno spettacolo folcolistico circense a tutti gli effetti. Ecco, un'iniziativa supportata dai commercianti locali? I commercianti locali, logicamente con la loro collaborazione e con l'intesa che una buona riuscita significa successo per l'ente locale ma significa successo soprattutto per gli operatori economici e questo è l'intento che ci vede convinti insieme agli operatori a portare avanti questa iniziativa. Nel ringraziare l'assessore alle attività produttive del Comune di Mercato San Severino ricordiamo nuovamente l'appuntamento fissato per sabato 12 aprile a partire dalle ore 17 a Mercato San Severino con una nuova edizione di Notte in Festa.